25 novembre. Oggi si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, stabilita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. La data è stata scelta in ricordo dell'omicidio di tre donne, le sorelle Mirabal, assassinate il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. Impegnate nel combattere il regime trentennale di Raffaele Onida Strugio con il nome di Battaglia Las Mariposas, le Farfalle, le sorelle Mirabal sono diventate il simbolo della lotta contro la violenza ed il loro brutale omicidio ha risvegliato l'indignazione popolare accelerando la fine della dittatura. La risoluzione ONU invita quindi i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare il 25 novembre attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.